Il nostro rapporto con l'Islam è il rapporto con un altro di cui noi abbiamo estremamente bisogno. In qualche modo l'alterizzazione di qualcosa che sia diverso da noi, che sia opposto a noi, che noi vogliamo vedere come radicalmente differente da noi, è un'esigenza di tutti gli universi culturali, di tutte le civiltà, in qualche modo se vogliamo dirla così. E quindi l'Islam, in realtà il modo in cui noi vediamo l'Islam, in cui percepiamo l'Islam, il modo in cui narriamo spesso l'Islam, ci dice molto più di noi, molto spesso di quanto ci dica l'Islam reale. Oggi purtroppo l'idea dell'Islam, del mondo musulmano in generale, è veicolato anche attraverso un'informazione che ci giunge dal Medio Oriente, anche i fatti drammatici che ci giungono dal Medio Oriente, una terra travagliata, una guerra di conflitti, una guerra di grande frammentazione politica, sociale, di grandi transizioni anche socio-economiche che hanno portato a violenza politica, che hanno portato a una politicizzazione dell'Islam, che hanno portato ad una strumentalizzazione dell'Islam che è giunta fino a noi. E quindi associamo in realtà l'Islam a tutta una serie di cose negative e che in qualche modo associamo anche in maniera scorretta, anzi molto spesso scorretta, ai problemi sulla sicurezza, ai problemi della sicurezza che toccano le sponde del Mediterraneo e anche il cuore dell'Europa in qualche modo. Quindi le migrazioni e il terrorismo associate direttamente all'Islam, ecco queste sono delle connessioni spurie, cioè delle connessioni che molto spesso non hanno nessun legame concreto, ma che noi costruiamo come tale per cercare di in qualche modo dare una spiegazione a quella che è una transizione appunto socio-economica e politica che riguarda il mondo, che riguarda tutti gli stati del mondo, in cui noi abbiamo bisogno di cercare a tutti i costi il colpevole, il colpevole spesso che viene dall'esterno, che non è interno a noi, che serve anche per scaricarci di tutte le responsabilità, le responsabilità politiche che però vanno ricercate a più livelli in un quadro molto più complesso della realtà. L'informazione ha delle grossissime responsabilità, soprattutto nel momento in cui non interpreta i fatti, questa è una cosa legittima, noi possiamo guardare ai fatti, essere onesti sui fatti e interpretarli in maniera diversa, perché tutti abbiamo delle differenti visioni del mondo, quindi tutti ovviamente pur guardando la stessa cosa, la guarderemo per forza di cosa in maniera differente. Quella che invece è una grande responsabilità dell'informazione oggi è mentire sulle fonti, manipolare le fonti, presentare dei fatti che non sono in realtà accaduti. Questo è il vero nemico che dobbiamo combattere, questa è la vera minaccia anche alla nostra democrazia, anche alla nostra libertà di pensiero, mentre non è una minaccia la soggettività. Ecco, quello che noi facciamo è cercare a tutti i costi l'oggettività, una verità assoluta, quasi la leteia di Platone, che è una cosa che però non esiste ed è in realtà la vera minaccia al libero pensiero. Esiste una pluralità di visioni perché esistono tante visioni del mondo, quanti sono gli esseri umani e quindi la soggettività è in realtà un valore, non è qualcosa da contrastare. Nessuno però può imporre una sua verità che sia migliore qualitativamente di quella degli altri. Quello che è fondamentale è l'onestà sulle fonti e sui fatti. Internet ci ha dato la possibilità di conoscere tutto in tempo reale, di vedere gli eventi mentre accadono e dandoci l'illusione di poter essere quasi nei posti dove accadono le cose. È una grande illusione proprio perché in realtà attraverso questo bombardamento di informazioni, ma anche attraverso le diverse prospettive che si possono creare all'occorrenza, si possono in realtà dare delle immagini estremamente mistificate, manipolate, dei fatti di come accadono. Un esempio di questo è proprio la Siria. Il paradosso della Siria è che oggi che abbiamo non soltanto internet, i cellulari, ma abbiamo le foto satellitari, abbiamo una serie di strumenti tecnologici in grado di verificare i fatti con un estremo livello di sofisticazione, non sappiamo neanche ancora in maniera accertata chi è stato l'esecutore dell'attacco chimico del 2013 nella ruta, la campagna intorno a Damasco. Questo perché? Perché in realtà non si vuole fare chiarezza su chi ha compiuto quell'attacco chimico contro i civili a Damasco. Questo è semplicemente un esempio. Quello che c'è dietro però purtroppo molto spesso, che dobbiamo rintracciare e investigare, questionare con molta forza, è il potere che spesso veicola e ci costringe a recepire determinate visioni dei fatti, percezioni dei fatti, perché determinati modi di vedere la realtà, determinate narrazioni, in fondo fanno il gioco di certi poteri piuttosto che di altri. Grazie a tutti.